Partirà domenica la scalata verso il sogno chiamata a due per le Panthers Roseto, gara 1 del primo turno di playoff che sarà Roma contro il San Raffaele, ritorno al Palamagetti sabato 14 maggio. Passa il turno chi avrà avuto la miglior differenza Canestri nelle due sfide, si parte dall'ottimo secondo posto preso nella seconda fase alle spalle della Stella Azzurra Roma, ma con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo, potendo contare su un gruppo che si è ricompattato in maniera positiva dopo l'avvicendamento in panchina tra William Orlando e Iris Ferrazoli. La strada è ancora lunga ma per queste Panthers crederci è d'obbligo. Si inizia, non è più tempo di giocare nel senso che non possiamo più sbagliare, quindi affrontiamo San Raffaele che anche con mille difficoltà è una squadra tosta, pronta e preparata ad affrontare partite che contano, quindi dobbiamo farci trovare pronte anche noi e vincerla bene anche sul loro campo. Un piccolo vantaggio potrebbe essere quello che l'avete affrontato poche settimane fa, fu la prima gara di coach Iris Ferrazoli e l'avete anche battuta bene in casa. Sì, questo ci ha dato la convinzione di avere tutte le carte per affrontarle e per fare bene, quindi dobbiamo prendere questa cosa per caricarci in settimana e per arrivare lì concentrate. Grazie per la visione!